Musica Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Itelestense. Siamo in attesa dei nuovi dati dell'emergenza coronavirus per capire come si sta muovendo l'epidemia anche sul territorio ferrarese, su quello regionale, dati anche utili per capire poi se questa emergenza lascerà spiragli per togliere delle restrizioni o peggio per inasprirle, ma ovvio bisogna sempre tenere conto di periodi abbastanza lunghi, a meno di una settimana per capire come si stanno muovendo anche a livello istituzionale. Istituzioni che comunque si stanno muovendo con le forze dell'ordine per applicare le normative, ad esempio stanno fioccando nel ferrarese le multe dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale e anche dei DPCM con le aree di vari colori, ricordiamo che l'Emilia Romagna è in zona arancione. Negli ultimi giorni in centro sono state tre le sanzioni per altrettanti titolari di attività, 400 euro di multa a testa e rischio di una chiusura totale e temporanea dell'attività per alcuni giorni. Attorno a un piccolo tavolo di un locale in via Saraceno la Polizia Municipale avrebbe trovato sedute sei persone, il limite previsto dall'attuale legge è di quattro e il titolare è stato così sanzionato dagli agenti, stessa situazione in un bar pasticceria sempre del centro storico, multa di 400 euro e anche in un ristorante etnico della prima periferia cittadina durante l'ora di pranzo. Queste le conseguenze dell'aumento dei controlli annunciati da parte della Polizia Locale di Ferrara che ha sanzionato anche un circolo abusivo aperto da poco a Monestirolo. Come abbiamo appena sentito non sono mancati controlli nello scorso fine settimana per far rispettare le nuove normative in campo anche la Polizia di Stato, due anche qui i titolari di locali sanzionati. Sentiamo. I controlli sul rispetto delle normative anticontagio stanno aumentando nel Ferrerese, in particolare sabato scorso l'ultimo giorno prima dell'entrata dell'Emilia Romagna in zona arancione che prevede la chiusura sette giorni su sette di bar e ristoranti. La Polizia di Stato ha riscontrato due episodi che hanno portato a sanzioni. La questura, complice l'ultimo aperitivo e l'accensione delle luminarie, ha posizionato delle transenne in centro e richiamato con l'autoparlante l'attenzione dei passanti sul distanziamento. Alle 17.45 poi veniva segnalata agli agenti all'interno di un locale gruppetti di ragazzi seduti ai tavoli, più di quattro per tavolo fino ad arrivare a 20 per tavolo dove si stava festeggiando un compleanno. Il titolare del locale è stato sanzionato come il gestore del locale di via Carlo Maier che avrebbe servito da bere dopo le 18, orario che da ordinanza regionale vieta la somministrazione. Qui gli animi si sarebbero scaldati, alcuni avventori avrebbero rivolto frasi ingiuriose agli agenti tanto che sono arrivate in rinforzo altre pattuglie della polizia dei carabinieri per cercare di calmare e allontanare le persone. Entrambe le violazioni saranno trasmesse alla prefettura e non è da escludere una sanzione accessoria che prevede una chiusura totale dell'attività da 5 a 30 giorni. In tutto la polizia in questo fine settimana ha controllato 290 persone e 23 tra esercizi e attività commerciali, 5 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina all'aperto e 2 per aver circolato dopo le ore 22 senza giustificato motivo. Quindi più controlli e anche sanzioni in questo caso e poi sappiamo delle difficoltà che diverse attività commerciali stanno affrontando in questa fase oltre a tutte le varie restrizioni che ci hanno sicuramente cambiato la vita. Ma questa classificazione in zona arancione per l'Emilia Romagna cosa significa per chi arriva e chi deve andare in Veneto che è tuttora in fascia gialla? Il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi spiega attraverso un comunicato quali sono le limitazioni e cosa si può fare per chi si deve recare a Ferrara e in Emilia dal Veneto e viceversa. Sentiamo. Il cambiamento dell'Emilia Romagna da fascia gialla ad arancione comporta nuove regole per i passaggi tra i comuni di Ferrara e Occhiobello. È il sindaco di quest'ultima comunità Sondra Coizzi attraverso un comunicato a spiegare le limitazioni degli spostamenti tra le due regioni. Nella spiegazione agli Occhiobellesi frontalieri viene chiarito che ci si può recare a Ferrara per lavoro, per visite mediche e veterinarie e per frequentazioni universitarie e sematricole. Non è permesso invece andare a far visita familiari salvo che non sia per necessità di assistenza o a fare la spesa al di fuori del proprio comune. Ogni spostamento in zona arancione va motivato con autocertificazione mentre in zona gialla quest'ultima è necessaria soltanto dalle 22 alle 5. In questa nuova fase di emergenza i cittadini, le persone, tutti i ferraresi forse come non mai vedono nei propri comuni un punto di riferimento in particolare per quel che riguarda i sostegni nell'affrontare questa difficile fase. I comuni ferraresi della provincia si sono già attivati con diverse iniziative come a Coparo dove è già stato attivato il COC, il centro operativo comunale, ma non solo. Si spiega cosa si sta facendo nel comune Coparese, direttamente il sindaco Fabrizio Pagnoni. Per fronteggiare l'emergenza sanitaria che purtroppo si è riaffacciata come protagonista anche queste settimane, abbiamo deciso da subito di riaprire il COC per poter dare una risposta immediata all'esigenza del nostro territorio. Infatti, qualora dovessimo ritornare a una situazione di lockdown, saremo già in grado immediatamente di riproporre quel servizio di consegne a domicilio di tutti i servizi che riteniamo essenziali per la popolazione coparese. Per quanto riguarda la salvaguardia economica, abbiamo condiviso con dei tavoli specifici, innanzitutto con le associazioni di categoria, quali potessero essere le misure più efficaci nella protezione delle nostre attività imprenditoriali e commerciali. Abbiamo deciso quindi di sgravare dal pagamento dell'Imu determinate categorie di immobili catastali. Abbiamo deciso di contribuire al pagamento dell'Atari per tutte quelle attività commerciali parzialmente o totalmente chiuse in determinati periodi dell'anno. E per quanto riguarda la COSAP, abbiamo deciso di estendere fino alla fine dell'anno la possibilità delle nostre attività di poter porre la propria merce al di fuori dei negozi occupando suolo pubblico senza naturalmente prevederne un'entrata diretta. Poi abbiamo ottenuto una serie di altri tavoli che hanno riguardato le associazioni e le associazioni sportive, perché sono state anche esse naturalmente colpite da questa epidemia. E abbiamo posto con loro in essere un piano di confronto continuo e una serie di sgravi che andremo a dare soprattutto a quelle associazioni che hanno in gestione degli impianti in modo diretto, che devono essere comunque tenuti in perfetta e deficiente manutenzione nonostante le attività non possano essere tenute in questo momento aperte. Inoltre stiamo lavorando anche da un punto di vista della serenità interiore delle persone, perché approcciandoci a un discorso di festività natalizie, stiamo cercando nell'impossibilità di realizzare degli spettacoli all'aperto, di lavorare da un punto di vista della scenografia, della musica, per riportare comunque un sentimento, uno spirito natalizio, perché possiamo essere più coesi tra noi stessi con il nostro territorio. E tra gli obiettivi delle istituzioni sanitarie e non in questa seconda fase pandemica c'è sicuramente quello di aumentare il più possibile il numero dei tamponi effettuati tra la popolazione in provincia di Ferrara, a Cento come a Comacchio. I tamponi vengono effettuati anche in aree nei parcheggi adibiti a questo scopo, ma nella città del Guercino ad esempio non si sta facendo solo questo per fronteggiare la situazione e si sta cercando anche di sostenere la popolazione. In che modo ce lo spiega il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli? Sentiamo. Per quanto riguarda il primo obiettivo, come amministrazione abbiamo cercato di potenziare il numero dei tamponi fatti. Quindi in accordo con l'Asla abbiamo allargato anche con un tampone drive in un parcheggio qua vicino al centro e stiamo cercando anche insieme ai laboratori privati di fare sempre più tamponi. Questo è importante perché abbiamo l'opportunità di andare a intercettare i positivi asintomatici che è fondamentale nel contenimento del contagio. Per quanto riguarda invece le scuole, i nidi che gestiamo direttamente, anche qui abbiamo creato un fondo dove come amministrazione copriamo i costi dei tamponi rapidi da fare sia sul personale che sui bambini che frequentano l'asilo per ridurre, quindi per verificare nel caso in cui ci sia un contagio ovviamente in modo veloce quello che è il contagio rispetto alla sezione, ma soprattutto per noi è importante ridurre i tempi in cui questi nostri bimbi sono a casa, quindi per dare la possibilità ai genitori di poter continuare a lavorare. In un'amministrazione stiamo lavorando anche su questo tema che è il tema della continuità del lavoro, quindi abbiamo sempre detto c'è un'emergenza sanitaria, dobbiamo stare attenti a fare in modo che non diventi un'emergenza economica. Stiamo facendo la nostra parte, quindi i mercati ad esempio sono tutti aperti, quindi anche rispetto alla zona arancione e all'ordinanza della regione siamo riusciti a garantire, a fare un progetto che garantisse l'operatore in quanto operatore, quindi che potesse sviluppare e continuare a lavorare e dall'altra parte ovviamente abbiamo potenziato i controlli con degli steward privati, quindi una sicurezza privata, una convenzione che abbiamo in essere con l'ANC come assistenti civici e ovviamente attraverso anche la nostra polizia locale, quindi mercati aperti in sicurezza. L'altro tema sono contributi che già a marzo-aprile avevamo stanziato per le nostre attività commerciali che erano state chiuse, anche in questo caso per tutte quelle attività, bar, ristoranti o comunque tutte quelle categorie che sono state oggetto di recenti chiusure anche nell'ultimo DPCM, come comune stiamo predisponendo e in tempi brevissimi, saranno già operativi, degli ulteriori contributi per andare a dare una mano, un piccolo sostegno, un grande sostegno economico a queste attività per garantire loro la possibilità di poter riaprire con una copertura comunque economica. Emergenza coronavirus che tocca anche le scuole e vi diamo adesso un aggiornamento in riferimento a quanto accaduto nel caso del tracciamento che ha coinvolto più sezioni di scuole di infanzia ferraresi. Allora, su 136 bambini monitorati negli scorsi giorni, due sono risultati positivi, uno senza sintomi, uno invece è un bambino con sintomi lievi, fanno parte di due scuole di infanzia ferraresi. Il corpo insegnante è sottoposto a tampone, 28 insegnanti in tutto, è risultato completamente negativo e per quanto riguarda i compagni e le insegnanti dei due bambini risultati positivi. L'azienda USL ha disposto la proroga dell'isolamento fino a nuovo tampone. Qua parliamo del comune di Ferrara. Intanto però in regione c'è l'accordo tra l'ente regionale e la sanità privata per i tamponi rapidi e i dipendenti delle imprese del patto per il lavoro. Ieri in giunta il via libera al protocollo d'intesa con le associazioni competenti. Un'intesa che permetterà di disporre di un altro importante strumento per la ricerca del virus in ambito lavorativo grazie a 250.000 test destinati a questo screening su tutto il territorio regionale. Intanto siamo, come abbiamo detto, in attesa dei nuovi numeri e del bollettino odierno dell'emergenza Covid in regione e nel ferrarese. Intanto però ricordiamo che ieri in regione, in Emilia Romagna, erano più di 2.500 nuovi casi positivi. A Ferrara erano un centinaio e sempre nel ferrarese si è registrato ancora un decesso per complicazioni apportate da coronavirus. Ma facciamo il bilancio delle ultime ore in questo servizio. Sono 101 su un totale di 486 tamponi effettuati i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Ferrara. Di questi 94 sono asintomatici, invece 7 con sintomi. Un caso proviene da focolaio, gli altri 100 da casi sporadici. Per quanto concerne i ricoveri in queste ore al nuovo ospedale Sant'Anna di Ferrara a Cona, sono stati 7 nuovi pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva dove resta stabile, e cioè 20, il numero dei posti letto occupati. Nel bollettino della sanità ferrarese si contano 98 persone entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, mentre ben 454 ne sono uscite. Purtroppo si è registrato ancora un decesso in un reparto Covid del Sant'Anna. La vittima è una donna di 86 anni, residente a Ferrara, ricoverata dal 9 ottobre. Proveniva dalla residenza Caterina di Ferrara. Il suo decesso risale il 14 novembre. L'86enne, come comunicato dalla direzione medica dell'ospedale, soffriva di patologie pregresse e concomitanti. Salgono così a 228 le vittime registrate nel territorio ferrarese da inizio pandemia. In Emilia-Romagna sono 2.547 in più i positivi al coronavirus, scovati su un totale di 14.442 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con una percentuale del 17%. Tra i nuovi casi, 276 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 366 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti, mentre sono 1.195 gli asintomatici. Si registrano purtroppo in regione 23 nuovi decessi, di cui 13 nella sola provincia di Modena. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247, uno in più di ieri. Un centinaio in più quelli ricoverati negli altri reparti Covid, che oggi raggiungono la quota di 2.393. 295 le persone guarite nelle ultime 24 ore, che complessivamente raggiungono quota 30.570. Ricordiamo che questi numeri che avete appena sentito si riferiscono a ieri e siamo in attesa nel primo pomeriggio dei dati odierni. Passiamo adesso però all'economia, perché cresce leggermente ottobre l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività a Ferrara. Rispetto ai dati del mese precedente, la variazione invece negativa se raffronto è con lo stesso mese di un anno fa. Sentiamo. A Ferrara, nel mese di ottobre 2020, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività con tabacchi registra una variazione positiva dello 0,1% rispetto al mese precedente ed una variazione negativa dello 0,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Su base mensile crescono i settori abitazione, acqua, elettricità e combustibili del 2,9%, altri beni e servizi dello 0,4%, prodotti alimentari e bevande alcoliche dello 0,2%, comunicazioni e servizi ricettivi e la ristorazione, entrambe a 0,1%. Mentre calano l'istruzione, meno 3,3%, trasporti meno 0,7%, mobili, articoli e servizi per la casa con un meno 0,3% ed un blocco del meno 0,2% che vede ricreazione, spettacoli e cultura, bevande alcoliche e tabacchi, abbigliamento e calzature. Diversa la situazione su base annuale con una crescita di diversi settori quali altri beni e servizi all'1,7%, prodotti alimentari e bevande alcoliche 1,6%, bevande alcoliche e tabacchi 1,5%, ricreazione, spettacoli e cultura 1,3%, abbigliamento e calzature 0,9%, mobili, articoli e servizi per la casa 0,7% e comunicazioni 0,1%. Calano invece l'istruzione, meno 2,8% e le categorie abitazione, acqua, elettricità e combustibili e servizi ricettivi via ristorazione, entrambe a quota meno 2,2%. Unico segmento invariato resta quello dei servizi sanitari e spese per la salute. E l'attività di Ferrara Fire non si ferma, ovviamente non si terrà in presenza nulla nei padiglioni, ma il prossimo appuntamento di Ferrara Fire dedicato al mare dal 19 al 22 novembre si sposta sul digitale. Sentiamo come. Siloji. Oltre 20 appuntamenti digitali sviluppati nell'arco di quattro giornate, 135 tra rappresentanti istituzionali, di organizzazioni professionali, tecnici, esperti, ricercatori per lo sviluppo sostenibile dei settori che compongono la Blue Economy, pesca, acquacoltura, turismo costiero e marittimo, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine. Tutto questo sarà Siloji, l'evento internazionale digitale organizzato da Ferrara Fire dal 19 al 22 novembre, interamente dedicato al mare e alle sue risorse. Oggi Fire sulla Blue Economy non ne esistono. Esistono momenti espositivi e di dialogo sia sulla pesca, sull'acocultura, sui trasporti, sul turismo, ma una fiera dedicata a quello complesso della Blue Economy nel mondo non c'è. E quindi Ferrara ha questo vantaggio di essere, di creare la prima genitura di una tipologia di fiera di questo tipo e una fiera che ha, come dice lo stesso, l'argomento mare e il mare non è veramente una scienza. Ecco perché diventa Siloji perché il mare in questo caso è una scienza dell'utilizzo del mare che diventa una scienza perché qui si parla e si deve parlare anche di quelli che sono gli aspetti economici di utilizzo del mare. Ciò che ci ha dato a mio avviso la svolta e quel che deve ancora venire sono proprio i flag. vi ringrazio anche sempre il Ministero per la rete flag che la direzione tiene in piedi perché grazie a questi scambi tra marinerie all'interno di quei flag, l'ha ricordato lei prima, ci sono comuni, ci sono università, ci sono tanti altri enti che davvero, così come hanno fatto i GAL qualche decennio fa, anche i flag stanno assumendo un ruolo importantissimo. L'innovativa rassegna organizzata da Ferrara Fiera era già stata presentata nel 2019 e si sarebbe dovuta tenere lo scorso marzo nei padiglioni fieristici, poi rimandati per colpa della pandemia. Non ho certo esitato a portare avanti questo bellissimo progetto, anzi ritengo addirittura che questa Sillogy Digital Preview non sia affatto un ripiego ma bensì un'ulteriore implementazione di un evento che avremo in primavera dal vivo. Anzi, il lavoro svolto per la realizzazione di questa Digital Preview dimostra come si sia capaci di gestire le emergenze e di valorizzare anche alcune situazioni particolari. Tutti abbiamo bisogno di reagire e andare avanti guardando il futuro in una chiave diversa e a questo mi leggo riguardo a ciò che stavo dicendo prima, una chiave nuova. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS